Eccoci a un ospite veramente illustre, un dell'isola partecipante a numerose tappe di questo circuito interprovinciale, sempre presente a tutti i tornei, in gran spolvero si dice, però insomma ci è venuto a trovare con simpatia. Che ne pensi di questo torneo organizzato a TNA? Eh no, è un torneo simpatico, anche a parte i giocatori che vedo di livello, livello molto alto, sicuramente non per me, mi escludo da questa categoria. No, assolutamente invece. Stare troppo in campo, io fatico troppo ragazzi, la notte fa spengere. Comunque tu hai visto in spolvero, l'antella è mancato il match al terzo, ho visto insomma... Mamma mia, fotte ore e venti in due giorni. E quindi, insomma, sicuramente ci saranno occasioni per far vedere il tuo valore nelle prossime tappe. Eh, ci spera, dai, vediamo più avanti. Ricordiamo tutti gli show di Kiko, eh, perché lui è forte sul campo ma la sera è ancora di più. Quindi dove vai? Raccontaci un po' dei tour. Veniteci a trovare a Firenze, prossimamente la prima data ufficiale al Manduca, alle Cascine, presenteremo un nuovo singolo. Hai fatto un nuovo singolo, tra l'altro, il Shocking è fantastico, l'ho sentito bellissimo. Un po' peso, un po' duro, però, insomma, va bene, meglio sempre duro che morbido. Beh, un saluto a Kiko, grazie di essere venuto e a presto. Ciao ragazzi, a presto, ciao.